Indipendente con idee di centro-sinistra, d'ora in avanti Marilena Garnier sarà un battitore libero. Ieri pomeriggio è stata invitata dal sindaco a lasciare la maggioranza e quindi il gruppo della lista civica Biffoni per Prato, all'interno della quale era stata eletta lo scorso maggio. Oggi più sorridente che mai si definisce serena e felice perché ha ricevuto tanti attestati di stima. Lascerà la presidenza della Commissione 1 e anche l'associazione Centro Studi 2.0, strettamente legata alla lista Biffoni, ma non si dimetterà da consigliere, anzi promette battaglia. Se dovrò votare a favore della maggioranza, sicuramente voterò a favore della maggioranza, come se reviserò degli elementi che non mi portino a votare a favore, sicuramente voterò a sfavore. Questo è certo anche perché risponderò sempre alla mia coscienza e alla coscienza dei cittadini che mi hanno votato. Il sindaco Biffoni ha preso la decisione di farla uscire dalla maggioranza all'indomani della presentazione da parte di Garnier e di un esposto alla Corte dei Conti sul prelievo dal fondo di riserva per mettere in ordine i conti del Metastasio e del Centro di Scienze Naturali. Ma alle spalle c'era una lunga sequenza di dissapori e contrasti su bilancio, aeroporto, amianto nelle tubature dell'acqua, interramento della declassata nonostante la falda altissima, gestione delle partecipate. Disaccordo su tutto, quasi, ma per Garnier ad aver tradito il mandato degli elettori è stato il sindaco. Non ho assolutamente tradito gli ideali della lista civica di Biffoni, io proprio perché non ho tradito gli ideali della lista civica Biffoni ecco perché forse ho fatto una lotta strenua fin dall'inizio, perché se noi guardiamo il programma del sindaco è evidente che tantissimi elementi del programma sono stati disattesi. Un'accusa a cui risponde lo stesso Biffoni. Non c'è nessun tradimento del programma, il programma si dipanerà in cinque anni, alcune scelte sono state fatte, altre vanno ancora compiute, però il percorso è quello, è netto ed è assolutamente quello che è scritto durante il percorso della campagna elettorale e poi successivamente. L'uscita della maggioranza di Garnier dovrà essere formalizzata nel prossimo Consiglio Comunale. È probabile che cambia anche postazione passando all'ala dell'opposizione. Ci sarà da riequilibrare a favore della maggioranza anche le commissioni 1 e 6 e da nominare il nuovo presidente della commissione 1.